Si chiama Craft Beer Game ed è una serie di serate organizzate da Via Arte e Confartigianato Vicenza in collaborazione con alcuni birrifici artigianali della provincia. Scopriamo di che cosa si tratta e come è andato lo scorso appuntamento al birrificio Birracrua di Vicenza. Alla scoperta degli ingredienti e del gusto delle birre artigianali della provincia. Il programma delle serate Craft Beer Game prevede una prima parte teorica in cui si ha l'opportunità di conoscere i segreti della produzione di diversi tipi di birra approfondendo ad esempio la scelta del luppolo. Si passa poi alla degustazione delle birre artigianali dove più attenti hanno saputo riconoscere il profumo dei luppoli precedentemente presentati all'interno delle birre servite. L'ultima parte della serata vede protagonista il Barley Hall, un gioco in cui lo scopo è centrare un buco all'interno di una tavola di legno poggiata a terra da una distanza di circa 3 metri e quindi una serata all'insegna del sapere, del gusto ma anche del divertimento in compagnia.